Attenzione! Eccolo! Si sta disegnando! Si sta disegnando! Wow! Guarda che bello! Bellissimo! No vabbè non ci posso credere! Eccola! Che carina! Mamma mia! E' bella! Poi guarda quando lo carica lo sfuma anche un po' Lo sfuma anche? Oh è bellissimo! Ciao a tutti ragazzi! Siamo Rabbi e Molly! E oggi su Roblox giocheremo a un gioco bellissimo! Coloreremo tutta la faccia di Molly! No! I muri, le pareti, le case! No! Come no? No! Non coloriamo la mia faccia, non coloriamo nemmeno le case! Ma si perché devi cambiare colore come cambia emozione capito? Cioè tipo adesso io ti colorerò la faccia di rosso così sarai rabbia! Allora un pochettino l'aria abbia ragione perché oggi dobbiamo disegnare! Oggi disegneremo! Perché siamo in questo mondo di Roblox dove tutti possono disegnare! Guarda questa qui ha disegnato una spada! Però c'è una particolarità di questi disegni ragazzi! Tutto quello che disegniamo prenderà vita! E' vero! Quindi diventeranno reali! Oh mamma! Cioè guardate questo si è animato! Ok! Va bene! Questa è una porta! E' magari un portale! E' il portale del nether! Posso entrare? Attenzione! Allora diciamo che noi disegniamo un pochettino meglio! Un coltello si sta inseguendo! Ah no! E' among us! E' among us! E' among us! Ok! Allora vediamo! Io direi subito di incominciare! Vai! Allora facciamo un'emozione a testa! Ok! Io faccio rabbia ovviamente! Va bene! Te fai rabbia! Allora vediamo rabbia! Attenzione! Non è semplice da fare! Comunque disegnare con il mouse non è semplice! Vediamo un po' se Molly farà un disegno decente o meno! Ragazzi mi raccomando voi dovete votare! Votate qua sotto nei commentini il disegno più bello! Allora rabbia vestito da impiegato! Ma te lo ricordi bene eh? Ovvio! Con la cravatta! Perché l'ho disegnato da poco! Ah ecco ok! Va bene! Allora quindi c'ha le spalline così! Cioè ragazzi ma che disegno sto facendo? Poi c'ha questo! Ma! Ma è bello! Ovvio! Io sono il campione! Cioè attenzione! Sta venendo quasi meglio dei tuoi disegni nella vita reale! Adesso non necessariamo! E' te no eh! Attenzione! Guardatelo! No vabbè! Allora adesso c'è la parte difficile! Adesso è difficile! Rabbia! Attenzione! È molto arrabbiato! Attenzione! Sì un'occhietta un po' storto però va bene! Ma che storto? Voglio vedere te! Oh! Ok! Ma ragazzi ma che disegno sta facendo? Incredibile! Cioè non ha mai disegnato così bene Molly! Ma cosa stai dicendo? Ma c'è stai disegnando bene col mouse poi! Ecco qua! Attenzione! Rabbia! Arrabbiato! Ma non hai capelli rabbia? Adesso gli facciamo un attimo due secondi! Non hai capelli ma in pratica le fiamme! Ok ti volevo dire giusto questa cosa! Cosa vuoi dire? Stai finendo la vernice! Stai finendo la vernice! C'è anche la vernice! Eh! Eh! Infatti non te lo volevo dire perché me ne sono accorta adesso! Dai! Rabbia! Ma dovevi dirmelo! Eh! Ma me ne ero accorta! Sì ma adesso non ho tempo per farlo tutto rosso! Abbiamo un problema! 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 Dai! Rabbia! Attenzione! Attenzione! Ma potevi dirmelo! Adesso? Tocca sciopparla! No no! Allora inizia a colorare però! Se hai a 6.000 devi farlo rosso! Sì ma dai! Potevi dirmelo! Rabbia! Ma ti ho detto che non lo sapevo! Proviamo livello 3! Cosa vuol dire? Cos'è livello 3? Dimensione pennello di più! Dimensione pennello non si può più dell'8? No! Mi sa che al massimo! Ma metti il livello! Perché hai messo il livello 3? Allora facciamo così! Ma perché hai messo il livello 3? Ah! Perché il livello sopra! Allora non sconcentrarmi Rabbia! Cosa vuol dire il livello sopra? È il livello sopra come su Photoshop! Dai! Tu non sai niente di queste cose! Eh vabbè allora! Dai! Ma non ho più colore! È finito! Hai rovinato il tuo disegno! No no no! Ci sono! Per mancanza di colore! Ma sta andando avanti! Sta andando avanti! Non è che dopo me la scala a me! Infatti te la scala! No dai! Allora posso farlo bene scusa! Eh puoi colorarlo bene sì! Dai devo colorarlo benissimo! Sì vabbè adesso stiamo qui 20 anni a colorarlo eh! Sì adesso stiamo qui 20 anni! No dai muoviti! Muoviti! Allora! Oh! Devo farlo bene! Ma perché infatti la vernice scusa prima la mette così! Adesso sparisce! Finisce da un momento all'altro! Forse mi fa... Oh! Mi fa scioppare sicuro! No no! Se mi dice invia dice no! Vediamo! Te lo dicevo! Quindi? Vedi? E quindi non puoi! No secondo me non posso! Sessione! Fammi mettere le ultime cose ma sicuro al 100% questo gioco malvaso! No ma devi mettere l'arancione non il rosso! Vediamo! Salva! Carica! Sicuro non me lo fa fare! Eh perché hai usato troppo... Attenzione! Attenzione! Dov'è? Dov'è? Non ce lo fa vedere! Non c'è! Ok allora salva! Carica! Dai deve andare adesso! Attenzione! Deve andare! Perché non si vede? Perché non si vede? Perché non si vede? Cioè me l'ha fatto pure rifare perché si era bugato il gioco! Cioè io non ho parole! Eh perché avevi colorato troppo! Mi raccomando non devi sforare gli 8000 di vernice eh! Ok un pochettino però devo colorare! Ok sì dai un po' lo coloriamo! Perché? Comunque era più bello prima! Eh ho capito! Allora lo rifaccio tutto! No 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 che tocca a me! Dai voglio colorare anch'io! Allora Rabbi è vestito da impiegato! Sì! Così eh! Ma no ma è tutto rosso! No! Lui c'ha quella maglia! Sì ma è una giacchettina! Però per la maggior parte è rosso! Non ti preoccupare! Dai ma che colore stai usando? Oh voglio vedere te dopo come lo fai eh! Allora io dopo farò ansia! Cioè già che l'ho dovuto rifare non è giusto eh! Non c'è quasi difficile! Cioè l'avevo fatto benissimo! L'avevi fatto bene è vero! L'avevi fatto bene! Perché adesso non ti piace? Cioè ci sto mettendo impegno! Ok ok bravo bravo! Hai fatto un ottimo lavoro! Allora vediamo! Dimmi quando sto per sforare eh! Allora sei a 6 mila! Io farei basta perché sei a 6 mila va bene! No! Te dici che fai basta perché vuoi giocare! Ma no! Ma non è vero! Dai! Guarda basta! Stai per finire! Lo stai peggiorando! No no! Sto colorando meglio! Eh ma hai preso un rosso diverso da quello di prima! Eh ma è più rabbioso! Basta basta! Guarda! Sei a 7 mila! Basta! Stai tranquilla! Guarda! Guarda! Basta dai che dopo non... Stai tranquilla! Non sforare! Non sforare! Non sforare! Non sforare! Non sforare! Basta! Guarda! Guarda la rabbica l'ansia! Sei a 7 mila e nove! Ok salva! Carica! E trasformati! Perché sono questo? Perché siamo un cer... Attenzione! Eccolo! Si sta disegnando! Si sta disegnando! Wow! Guarda che bello! Bellissimo! No vabbè non ci posso credere! Tutto quello che avevo disegnato prima! E adesso è rabbia nella vita reale! Ah ma è la nostra spada! Qual è la nostra spada? Allora abbiamo fatto rabbia! Guarda! Che carino! Ok! Ok! Direi che sei stato bravo! Un 5 per Molly! Allora aspetta! Eccolo qua! Un 5 per Molly! Vai ragazzi! Mi raccomando! Votate da 1 a 10 questo disegno! Potevo far meglio! Vabbè! Sei stato bravo! Però questo è rabbia animato che cammina! Io ti darei 7! Anzi 7 e mezzo! Ma come 7 e mezzo? Guarda in confronto a quello degli altri! Oh! Ti sei sdoppiato! Oh! Finalmente! Sono diventato lui! Guarda! Sì! Siamo noi! È carino! È carino! Guardi in confronto agli altri! In confronto agli altri! Eh ma perché siamo colorati! Gli altri non sono colorati! Guarda che roba! Eh sì! Direi che abbiamo vinto questa sfida! Allora questa ha disegnato la bandiera! Eh la bandierina è carina! Allora Rebby! Direi che è arrivato il tuo turno! Adesso io vorrei fare gioia! Però è un po' difficile! Vogliamo vedere Rebby come fa! Allora adesso vediamo la Rebby come se la cava! Allora io voglio fare gioia! Allora quindi facciamo il suo faccione! Solo la faccia quindi spero che fai! Non solo la faccia! Allora aspetta! Lei ha gli occhioni blu eh! Oh come si fa così così! Così così! Ok! Ha degli occhioni blu! Gli occhioni blu! Oh ma non mi ha fatto blu! No aspetta! Eh ma perché devi fare lì? Guarda facciamo cancella! Come si fa? Torna indietro aspetta! Ah aiuto! Non dovrei aiutarti eh! Ah va bene! Clicca lì! Ok qui! Brava! Ok! Ok gli occhi tutti blu! Ok un po' più scuro! Battere il mio rabbia sarà difficile! Guardate com'è concentrato ragazzi! Mi sto concentrando perché devo fare una gioia gioiosa! Ok! Attenzione! Ok! Per ora ci sta! Guarda guarda sto facendo! Non mi fare sconcentrare che sbaglio! Vabbè va bene dai va bene per ora! Ok! Anche se dentro gli occhi sono azzurri! Non è che tutti gli occhi sono blu! Guarda adesso lo sto facendo! Sì dai carino! Ok! È difficile comunque disegnare col maul eh! Vedi tu hai detto oh rabbia fa schifo! No 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 ho detto che fa schifo! No ha detto che rabbia fa schifo! No! Mi sto arrabbiando! Non è vero! Oh mamma! Sei già a 200... No! 2005 Revy! Che hai fatto solo sta roba! Oh mamma! Allora lei ha degli occhietti! I capelli sono azzurri blu! I capelli sono azzurri un po' più chiaro! Oh no non sono così sono blu! Eh sono un po' più... In verità i capelli sono come gli occhi! Come li hai fatti te! No no sono un po' così! Questo è un disastro lo stai facendo! Guarda! Ecco fatto! Allora! Ok va bene ci sta! Vediamo! Allora li ha un po' anche sopra eh! Mamma mia! Ecco così! Mettigli un po' di capelli poverina che non è pelata! Infatti gli sto mettendo! Che altrimenti gioia diventa tristezza! No no! Può sembrare più tristezza che gioia! È tristezza! È tristezza! Sì ma fai gli ciuffettini! Un attimo! Ok sta diventando una... Allora! Non è bello! È bello è bello è bello! È carina è carina! Guarda è tanto carina! Rebi sei a metà eh! Ok! E allora! È gialla! Eeeecco! Guarda! È carina! Sembra un disegno di un bimbo di due anni! Ma non è vero! Sembra un disegno di un bimbo di due anni dai! Ecco! Ok di un anno e mezzo! Voglio! Un anno e mezzo! Te lo smetti di prendermi in giro? Oh! Facciamo il giallo! Corriamo! Cinquemila e cinque! Rebi! Dai dai che devo finire! Sembra che si sia sporcata la faccia! Sei mila! Comunque! Se questo video vi piacerà noi scioppiamo così possiamo disegnare all'infinito! Ok guarda! Sei a setemila Rebi! Brava! Il naso! Non hai fatto il naso! Il naso! Il naso! Il naso! Di che colore lo faccio? Così dai! Un po' così! 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 E' carina! Dai no! E' carina! E' carina! E' carina gioia! Aspetta! Io migliorerei un po' il collo magari! Il collo! I capelli! Non è proprio gioia! No i capelli ci sta! Scrivi gioia se no! Ok si giusto! Aspetta! Aspetta! Cosa vuoi cercare? Il giallo! E' il giallo lì! Ma non è proprio giallo! E' tutto giallo giallo! Ecco! Ok! Gio! I! Iaaah! Ok! Io direi che puoi lasciarlo così! E' bellissimo! Allora ragazzi! Votate anche questo da 1 a 10 eh! Ok! Quindi! Trasformiamoci in gioia ragazzi! Vediamo! Vediamo! Questo era il mio rabbia! Eh! Questo era carino! Tanta roba! Dov'è gioia? Ehi! Eccola! Eccola! Dai! Guarda quanto è piccina! Guardate che carina! La stiamo colorando! L'ho colorata davvero male! Allora! Sicuro meglio di questo! Aspetta che scriviamo gioia! Guarda! Gioia! Gioia! Dai! Ma è bellissima! E' carino! Guarda che tutti vengono qua! Eh! Ma perché stiamo facendo un ottimo lavoro! Gioia! Allora! Il mio rabbia per ora tanta roba! Allora! Però guarda! Ci stanno riconoscendo tutti! Ci stanno riconoscendo! Stanno venendo a vedere cosa stiamo facendo! Allora! Cosa faccio? Guarda che bello! L'ha fatto un fiore! Bello! Cosa faccio adesso? Allora! Io farei! Vabbè! Ansia la faccio io! Io che faccio? Tu fai! Io faccio! Imbarazzo! Imbarazzo! Se no! Vabbè! Disgusto! No! Ansia posso farla io! Dai! Fai ansia! Faccio ansia! Ok! Ansia! Che bello! Ansia! Allora! Ansia! Iniziamo dagli occhi! Ha una faccia un po' storta! Ansia! No! Perché gli occhi così? Stai tranquilla! Ok! Quella è la bocca? Si! Ok! Ci siamo! Ci siamo! Allora! Poi gli faccio! E mi raccomando lascia lo spazio per una cosa fondamentale di ansia eh! Calma! Cosa? I ciuffetti! I ciuffetti! Calma calma! Guarda cosa ti faccio adesso eh! Contorno occhi! Addirittura il contorno! E c'è un problema però! Ansia ha un occhio più grande dell'altro! Ma si! Ma perché ha paura in sto momento! Ok ok! E ha paura di come lo stai disegnando! Sta guardando lì! Oh mamma! Sezione! Sembra una lumaca in questo momento! Non sembra una lumaca! Ha una lumachina! Non sembra una lumaca! Un po' una lumachina! Non sembra una lumaca! Non è una lumachina! Non è una lumachina! Ok! Lo stai un po' peggiorando! Allora calma! Calma! Dai allora! Allora vediamo! Eh questa è la bocca! Ok! Non è facile eh! Allora dai! Finisci il viso! Un attimo! No! Ma dovevi fare tutto con quel colore! Al momento lo cambi! Eh infatti lo cambio! Eh vabbè dai è andata così eh! Ma non ripassare che perdi la vernice! Stai tranquillo! Eh infatti perdo la vernice! Brava! Eh eh! Grazie per gli aiuti! Stai suggerendo bene comunque eh! Eh beh siamo in squadra! Dai dai! Allora forza! Fagli la faccia! Allora aspetta i denti! Ecco i dentini! Ok i dentini! E li avevi quasi lasciati con la vernice! Gli avevo quasi lasciati! Allora i ciuffi! Già cinquemila! Eh eh te l'ho detto che perdevi la vernice! No ma i ciuffi non sono subito lì! Dovevi finire la faccia! Sì che sono qua! Sono qua! No no! Ce li ha così! Vabbè ok basta basta va bene! Dai fagli un po' di... Un altro po' di ciuffi! E basta non hai più! Un attimo Rebby mi stress! Dai fagli il corpo! Il corpo ce l'ha piccolo così! Ok! Mi sembra uno strusso! Non mi sembra uno strusso! È uno strusso! Ma non è uno strusso! Anzia è uno strusso! No non è uno strusso! E comunque vedi hai usato un sacco di arancioni che non sono male! Non sono male sta bene! Allora facciamolo! Un alberello di Natale spoglio! No! Facciamo così perché non abbiamo più il colore! No ragazzi! Oh mamma! Allora mettiamo un po' di bianco qui! Ok! Oh mamma! È un po' mostricciato lo più grande! È in ansia! Allora vediamo un po'! E poi per finire! Basta quei ciuffi! Basta! Lo decido io quando basta! Ma devi fare qualcosa di più sotto secondo me! No va bene così! Ok va bene! Allora tolgo le braccia così! Giusto per finire un po' il colore! Giusto per finire un po' il colore! Dai ci sta! Ci sta però non lo rovinare! Basta! Aspetta metto dei denti! No! Che denti basta! Basta va bene! Salva! Invia! Invia! Trasformati! Vediamo! Oh! Vediamo un pochettino! Attenzione attenzione! Si siamo! Trasformati! Oh! Trasformati! Dai! Trasformati! Dov'è il mio disegno? Allora comunque c'è gioia! Perché è rimasta solo gioia? Ah c'è anche rabbia! Scusa! Salva! Ah carica! Ok! Vai! Eccola! Che carina! Mamma mia! È bella! Poi guarda quando lo carica lo sfuma anche un po'! Lo sfuma anche! Ah è bellino devo dire! Ah! Sono in ansia! Sono in ansia! Ok! Devo ammettere che con questa ti sei guadagnato il punto eh! No! Mi ha andato via rabbia! Eh! Perché solo due se ne possono tenere! Ok! Carina però! Carina! Un applauso per Molly ragazzi! Questo gli darei nove e mezzo! Nove e mezzo! Così tanto! 10 è la perfezione! 9 e mezzo! Vuoi farne un altro? Guarda guarda è venuto a vedere! Ah! Sono in ansia! Sono in ansia! Va bene dai! Allora io direi che va bene così! Guarda una spada! Vabbè dai! Ma cosa sono? Ma cos'è? Il mi piace! Un pollicione! Ragazzi mi raccomando! Un bel mi piace! Se volete che continuiamo a fare questi disegni lasciate un bel mi piace! Ma soprattutto! Iscrivetevi! E vi saluto! Ehi a tutti! Ciao! 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 Ciao!